pillole di teologia di fulvio ferrario cari ascoltatrici cari ascoltatori benvenute benvenuti a questa seconda puntata della trasmissione di radio bequita evangelica pillole di teologia io sono fulvio ferrario professore alla facoltà valdese avevamo lasciato la scorsa settimana carl bart neoprofessore a göttingen in germania dove egli si sforza di insegnare la teologia riformata cioè la teologia calvinista diciamo della riforma svizzera in una roccaforte luterana dove calvino e zwingli sono poco apprezzati sono anni per bart di studio matto e disperatissimo come è stato detto che lui non si era formato per diventare professore deve recuperare per così dire quello che non aveva potuto approfondire ma in breve questo giovane teologo si impone come una delle voci più interessanti anche più discusse più controverse parte detestate del panorama teologico tedesco riceve un dottorato ad honorem dall'università di münster sarà il primo di una lunga serie ma questo serve all'università di münster per poterlo poi invitare come professore ordinario presso quella scuola teologica molto prestigiosa e da münster bart inizia a diffondere il proprio verbo cioè quello di una teologia che appunto rompe con la tradizione liberale si concentra su un messaggio apparentemente ripetitivo tautologico in realtà di grande portata dio è dio cioè non si può non si deve parlare di dio semplicemente come del coronamento religioso di un'ideologia borghese dio è colui che si rivela in gesù cristo come istanza critica nei confronti di questo mondo istanza critica nei confronti della borghesia come del proletariato della destra della sinistra istanza critica nei confronti della chiesa deve imparare ad ascoltare la parola di dio come una parola rivolta anche contro se stessa in vista certo non della sua distruzione ma della sua rinascita a münster bart conosce anche una persona sarà decisiva per la sua vita in un primo tempo è un'ammiratrice diventerà una assistente una segretaria estremamente qualificata poi vivrà insieme a carl bart insieme alla moglie insieme alla famiglia in un menage a trois molto discusso molto chiacchierato questa donna si chiama charlotte von kirschbaum ed è un'infermiera originariamente acquisirà le competenze per condividere il lavoro di bart in una funzione di aiuto senza la quale l'opera di bart sarebbe stata incomprensibile ma nel frattempo il mondo non vive solo di teologia neanche principalmente negli anni alla fine degli anni venti all'inizio degli anni trenta nubi assai fosche si addensano sulla germania e sull'europa le nubi dei fascismi in germania la nube del nazionalsocialismo la grande impresa del nazionalsocialismo è di stabilire naturalmente una pace immediata con la chiesa cattolica esattamente come il fascismo italiano e quello spagnolo ma di tentare una operazione ancora più pericolosa se possibile con la chiesa evangelica cioè occuparla dall'interno mettere in vertice della chiesa evangelica personaggi che vorrebbero rendere nazista non solo la direzione della chiesa ma anche la stessa dottrina ad esempio spiegando che gesù era ariano che l'antico testamento va abbandonato perché di origine semitica eccetera nella chiesa evangelica qualcuno riconosce l'eresia drammatica scosta neanche tanto in queste dottrine e carl bart è insieme ad altri e più di altri colui che lavora per combattere questa distruzione dall'interno della chiesa un sinodo si riunisce nel 1934 a barman vicino a wuppertal sinodo libero per così dire non convocato dalle autorità da questo sinodo verrà una parola decisiva in questa battaglia rb in valpellice ci ascolti solo 87 8 in fm su cristo così come ci viene attestato nella sacra scrittura è l'unica parola di dio ad essa dobbiamo prestare ascolto in essa dobbiamo confidare adesso dobbiamo obbedire in vita morte fingiamo la falsa dottrina secondo la quale la chiesa fianco e al di là di quest'unica parola potrebbe e dovrebbe usare come base della propria predicazione anche altri eventi e forze figure e verità conoscendo loro cattere di rivelazione di dio così per la penna di carl bart appunto si esprime il sinodo di barman nel 1934 hitler non è dio un'affermazione difficile da mettere in discussione apparentemente oggi non allora per strano che possa sembrare allora molti ritenevano che quella di barman fosse una parola rivoluzionaria comunque come tale lavorò costituendo intorno a sé una chiesa non era necessariamente una chiesa politicamente antinazista ma almeno una chiesa che non voleva barattare la bibbia con gli scritti o i discorsi di hitler dopo barth viene espulso dalla germania per non avere voluto rendere un giuramento di fedeltà personale al führer carlotte von kirschbaum segue la famiglia barth lei tedesca si trasferisce in svizzera rischiando a un certo punto di trovarsi senza passaporto e rimandata in bocca ai nazisti barth dalla svizzera continua la propria opera teologica che si concreta in una gigantesca serie di volumi verranno pubblicati una dozzina di 700 pagine o 600 pagine o 500 pagine l'uno una monumentale dogmatica ecclesiale cioè una esposizione sistematica della fede cristiana fino ad allora barth si era dedicato a dire che dio in cielo l'essere umano sul è sulla terra e dio è critico nei confronti della storia dell'umanità e l'umanità non può elevarsi a dio il corso del lavoro alla sua dogmatica senza negare quello che aveva detto fino ad allora barth modifica gli accenti della propria teologia è vero dio è in cielo e l'umanità è sulla terra ma uno è sceso dal cielo per portare dio sulla terra in gesù cristo cielo e terra sono più vicini di quanto mai siano stati non è la vicinanza predicata dalla teologia liberale per la quale l'essere umano è divino però il contrario è dio che è umano nel 1956 barth scriverà una conferenza bellissima intitolata l'umanità di dio che tutti possono leggere che consiglio di leggere un testo semplicissimo quasi poetico per certi aspetti e il contenuto di questo testo può essere così sintetizzato può darsi esistano esseri umani che dicono di essere senza dio ma certamente non esiste alcun dio senza gli esseri umani il dio della bibbia è l'emmanuele il dio con noi il dio che non vuole essere senza di noi questo è il messaggio centrale delle migliaia di pagine della dogmatica ecclesiale uno si potrebbe legittimamente chiedere se data appunto questa semplicità era necessario estendere il commento così ampiamente bene le pagine di barth sono effettivamente a tratti molto faticose anche dal punto di vista linguistico barth scrive un ottimo tedesco ma anche un tedesco veramente impegnativo però bisogna riconoscere che egli prende in questo modo una testimonianza intellettuale alla grandezza del messaggio cristiano e al suo carattere consolante barth rimane legato alla germania anche dalla svizzera anche dopo la guerra cercherà di reinserire la chiesa e il popolo tedesco nel consesso internazionale e la parola fondamentale che permette anche questo reinserimento politico e civile è perdono grande smisurata mostruosa è la colpa del popolo tedesco ma né morte né vita né cose presenti né cose future né principati né potestà né ogni altra creatura potranno separarci dall'amore di dio in cristo gesù questa parola della lettera ai romani e anche la il motore e la matrice della posizione politica di barth è il dopoguerra il barth della maturità e dunque il teologo della grazia smisurata di dio è il teologo di una misericordia di dio che non lascia indietro nulla non lascia che nulla si perda questa serena contemplazione del sì di dio nei confronti dell'umanità si esprime per barth anche mediante metafore musicali una è per lui particolarmente importante barth è un mozart fan mozart è secondo lui la grande parabola musicale della pace e della misericordia di dio la cosa non è ovvio perché mozart è personalmente cattolico e anche massone quindi il contrario diciamo di quello che potrebbe piacere a un socialista protestante come carl barth eppure egli guarda con simpatetica ironia anche alla storia della musica e si esprime così angeli quando sono di fronte a dio suonano bar per dovere d'ufficio cioè suonano il musicista protestante per eccellenza il musicista religioso per eccellenza ma quando sono tra di loro suonano mozart e dio da dietro l'uscio li ascolta con piacere parlato di mozart perché non è semplicemente una curiosità nella vita di barth è un modo che lui individua per esprimere quello che vuol dire la secolarità della musica di mozart secondo barth può parlare di dio meglio della religiosità della musica di barth è un'opinione che gli lascio volentieri ma che è giusto menzionare negli anni della guerra fredda barth non vuole assumere una posizione analoga a quella di molta parte del protestantesimo soprattutto americano e analoga a quella del cattolicesimo romano cioè non vuole scomunicare il comunismo il comunismo rappresenta per barth comunque una parola di liberazione dell'umanità barth sottovaluterà sempre anche dopo il 56 il carattere criminale dello stalinismo questo va detto quando barth scrive in un passo da sua vecchiaia che per lui il 56 sarà l'anno di un centenario di mozart è significativo che gli dimentichi che il 56 è anche l'anno della tragedia di ungheria ad esempio barth non vuole essere comunista non lo è mai stato ma detesta l'anticomunismo e questo lo porta anche a sottovalutare ripeto la tragicità dell'esperienza stalinista negli ultimi anni della vita barth scopre con il vaticano secondo anche il rinnovamento del cattolicesimo romano compie un viaggio a roma che lo colpirà moltissimo e rimarrà molto colpito appunto da quella che secondo lui una grande trasformazione del mondo cattolico nel frattempo charlotte von kirschbaum è colpita da una demenza neanche senile perché la colpisce molto giovane barth continua a visitarla tutte le domeniche fin quando può farlo e quando charlotte non capisce più quello che egli ha da dire i due si intenderanno mediante gli inni della chiesa cioè barth le canterà gli inni della chiesa charlotte von kirschbaum gli sopravviverà in questo stato quasi vegetativo sarà anche la vecchiaia un periodo di riavvicinamento quindi con nelly barth che aveva vissuto tutta la vita in questa situazione estremamente difficile e drammatica e alla quale teologo dedicherà l'ultimo volume della sua magmatica vecchio barth si interroga su molte cose si chiede anche che cosa dirà a dio quando si presenterà di fronte a lui e gli dice certo non andrò con una sporta con dentro tutti i volumi della mia dogmatica anche perché gli angeli dice barth si metterebbero a ridere e citando la parabola del fariseo del pubblicano gli dice quando mi presenterò di fronte a lui gli dirò semplicemente o dio abbi pietà di me peccatore così dice il teologo della grazia ci piace immaginarlo appunto con gli angeli che suonano mozart mentre gli pronuncia queste parole bibliche in fronte suo creatore fulio ferraio vi ringrazia per l'attenzione da appuntamento alla prossima puntata di pillole di teologia che avrà un tema diverso e sarà dedicata all'introduzione al credo della chiesa cristiana